Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nella botteghina di Ecosolidale, ci troviamo a Cormos e io sono Dorota, una delle tante volontarie. All'interno della nostra bottega potete trovare tantissimi prodotti di artigianato, prodotti alimentari e prodotti la cura della persona. Prodotti artigianali provengono da varie parti del mondo, invece prodotti alimentari provengono anche dall'Italia, dalle cooperative sociali, dal carcere, dalle cooperative delle persone meno fortunate di noi. Dietro ogni prodotto troviamo molti volti, storie di vite umane, ci sono tantissimi progetti solidari. Commercio Ecosolidale è un commercio giusto, che permette ai produttori una vita dignitosa. È un commercio senza sfruttamento in tutte le sue forme, soprattutto senza sfruttamento minorile. Nostri prodotti hanno un riguardo particolare verso il mondo femminile e verso le persone in difficoltà.